Oroscopo del giorno. Venerdì, 27 luglio, 2018. Ariete. Amore, in amore, per chi avesse già una relazione sentimentale poco felice, potrà contare su un ritorno di fiamma nel rapporto. Buone le possibilità di rimettere in carreggiata una relazione. Alcuni single potrebbero essere favoriti in nuove sensuali avventure erotiche. Lavoro, nel lavoro potrebbe essere arrivato finalmente il vostro turno, avete obiettivi da cogliere, le stelle vi sorrideranno, datevi da fare. Toro. Amore, in amore, si prevede per le coppie una giornata non troppo magica, soprattutto in merito al rapporto con il partner. Chi riuscirà a scorgere la felicità potrà anche solo guardarla. Giornata tutto sommato discreta per i single, potranno viverla un po' più spensieratamente. Lavoro, la giornata vedrà diverse situazioni evolvere in differenti direzioni, ognuna delle quali potenzialmente alla vostra portata. Gemelli. Amore, il periodo potrebbe essere pregno di buoni cambiamenti, chi ha problemi di relazione riguardo alla coppia, troverà spunti per mettere in sicurezza più di qualche situazione. Buone prospettive anche per i single, incontrerete una persona speciale. Lavoro, nel lavoro dovrete sforzarvi un pochino di più nel cercare di essere puntigliosi e precisi. Cancro. Amore, con la vicinanza di sole e marte in amore si prevede una giornata tranquilla, non priva di momenti particolari in cui potrebbe essere richiesta un'attenzione maggiore. I single avranno maggiori chance di colpire il bersaglio e di instaurare una splendida intesa sessuale. Lavoro, per il settore lavorativo meglio evitare l'ardua scelta di forzare i tempi o le situazioni basandovi esclusivamente sull'istinto. Leone. Amore, in campo sentimentale potreste avvertire l'esigenza di allontanarvi da certi schemi, forse un po' fuori moda ma decisamente ancora attuali. Se siete single potreste trovare una persona in grado di regalarvi un eccitante rapporto che potrebbe durare. Lavoro, le stelle potrebbero riservare buone opportunità di crescita, la giornata sarà di grande impegno, ma darà garanzia di successo. Virgine. Amore, venerdì molto particolare, a regalare motivi di soddisfazione sarà ancora la luna che è benevola a riguardo ai sentimenti. La giornata potrà rendervi felici insieme al partner. I single potrebbe trovare i giusti risconti con una conoscenza, potreste toccare il cielo con un dito. Lavoro, passato il frangente particolarmente faticoso, da ora in avanti troverete i giusti appoggi capaci di restituire fiducia nel futuro. Bilancia. Amore, periodo un po dubbioso per lamore, ma decisamente molto affascinante, sentirete lesigenza di esplorare nuove dimensioni esistenziali, alla ricerca di tante risposte. Per i single potrebbero prefigurarsi momenti abbastanza trasgressivi, si apre uno scenario frizzante. Lavoro, il settore professionale potrà perdere qualche colpo, il periodo purtroppo è ancora costellato da intoppi e disguidi. Scorpione. Amore, un periodo poco favorevole per lamore potrebbe bussare alla porta del cuore, vi sentirete un po smarriti, forse alla ricerca di qualcosa di meraviglioso, ma inarrivabile. Per i single è un ottimo momento invece per sognare di trovare lanima gemella. Lavoro, il momento non sarà dei migliori per cambiare, quindi ponete un piccolo freno alla vostra smania di migliorare. Sagittario. Amore, in amore la giornata potrebbe apparire forse un pochino strana, ma le stelle promettono bene, non daranno modo di lamentarvi o di rimanere scontenti. Per i cuori solitari potrà risorgere un vecchio amore, che magari non hanno mai dimenticato. Lavoro, oggi qualcosa di buono potrebbe evolvere dalla vostra parte, in tanti riuscirete a lavorare con spirito e voglia vera. Capricorno. Amore, previsioni poco convincenti, in amore gli astri non vi sorrideranno. Oggi potrebbero acquirsi tensioni o ripicche, peggiorando ancora di più il rapporto. Per i single sarà tutt'altra musica, potranno infatti contare su situazioni dolci e intense allo stesso tempo. Lavoro, chi dovesse trovarsi in difficoltà, farà bene a prendersi una piccola pausa riflessiva. Ci vuole proprio. Acquario. Amore, la giornata promette bene, ma in campo sentimentale dovrete cercare di dare più spazio allintesa con il partner, approfittando del momento favorevole. I single per essere felici e vincenti dovranno avere maggiore elasticità negli approcci, evitando la ripetitività. Lavoro, gli astri sono dalla vostra parte e la giornata partirà con il piede giusto, in primo piano nuove idee o progetti interessanti. Pesci. Amore, il periodo per quanto riguarda l'amore è molto chiaro, sarà un periodo poco travolgente, questo sì, ma a tratti anche meravigliosamente coinvolgente, con alti e bassi abbastanza piacevoli. Se siete single raccoglierete successo e ammirazione solo se saprete affascinare. Lavoro, arrivano buone notizie sul fronte professionale, potrete contare sullapporto di pianeti decisamente di parte, pronti a dare le dovute energie. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.